rosario con le vostre candele accese offerte alla madonna di loreto preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa preghiera e affidiamo alla vergine lauretana tutte le vostre intenzioni dal santuario della santa casa di loreto recitiamo regina cieli e il santo rosario in comunione con tutti coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione oggi festa della madonna di fatima preghiamo secondo il suo messaggio preghiera e penitenza in particolar modo recita del santo rosario e devozione al suo cuore immacolato regina del cielo rallegrati alleluia cristo che hai portato nel grembo alleluia e risorto come aveva promesso alleluia prega il signore per noi alleluia rallegrati vergine maria alleluia signore veramente risolto alleluia preghiamo o dio che nella gloriosa resurrezione del tuo figlio ha ridato la gioia il mondo intero per intercessione di maria vergine concede a noi di godere la gioia della vita senza fine per cristo nostro signore amore piena di grazia, Ave, Vergine Maria. Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria. Nel primo misterio della gioia, meditiamo l'annuncio dell'Angelo a Maria. Paternose, qui e sinceri, santificato, nome in tu, a te veni e a te regno in tu, fiat voluntas tua, sicuti in cielo e in terra. Fanno il nostro quotidiano da nobis odie, e dimite nobis debita nostra, sicute nos dimittimus debitoribus nostris, e de nos intrugas in tentazione, se libera nostra malo. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora fra nobis peccatoribus, nunc e di noa mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora fra nobis peccatoribus, nunc e di noa mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora fra nobis peccatoribus, nunc e di noa mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora fra nobis peccatoribus, nunc e di noa mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora fra nobis peccatoribus, nunc e di noa mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora fra nobis peccatoribus, nunc e di noa mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora fra nobis peccatoribus, nunc e di noa mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora fra nobis peccatoribus, nunc e di noa mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora fra nobis peccatoribus, nunc e di noa mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora fra nobis peccatoribus, nunc e di noa mortis nostre. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mater di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mater di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mater di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mater di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mater di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mater di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mater di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mater di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mater di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mater di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi, prega per noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonaci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Je vous salue, Maria,pleina di Dio, prega per noi, prega per noi, reigné laGM新 Queste, prega per noi, prega per noi, prega per noi, presto e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Maria,pleina di Dio, prega per noi, prega per noi, prega per noi, presto e readore, prega per clothi, allora procre per le 오면 inaugurato il tuo nome. prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Io ti saluto, Maria, piena di grasse, il Signore è con voi. Voi sei benedì tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostri entri, è benedì. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Io ti saluto, Maria, piena di grasse, il Signore è con voi. Voi sei benedì tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostri entri, è benedì. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Io ti saluto, Maria, piena di grasse, il Signore è con voi. Voi sei benedì tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostri entri, è benedì. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Io ti saluto, Maria, piena di grasse, il Signore è con voi. Voi sei benedì tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostri entri, è benedì. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Io ti saluto, Maria, piena di grasse, il Signore è con voi. Voi sei benedì tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostri entri, è benedì. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Io ti saluto, Maria, piena di grasse, e Gesù, il frutto di vostri entri, è benedì. Voi sei benedì tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostri entri, è benedì. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Io ti saluto, Maria, piena di grasse, il Signore è con voi. Voi sei benedì tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostri entri, è benedì. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Io ti saluto, Maria, piena di grasse, il Signore è con voi. Voi sei benedì tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostri entri, è benedì. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel quarto mistero della gioia, meditiamo Gesù che viene presentato al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. D'acce oggi, nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonati alla tentazione, ma liberati dal male. Amen. Ave Maria, cheia di graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nel loro della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di graça, il Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nel loro della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di graça, il Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nel loro della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nel loro della nostra morte. ame. Ave Maria, cheia di graça, il Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nel loro della nostra morte. ame. Ave Maria, cheia di graça, il Signore è convosco. bendita sois vós, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nel loro della nostra morte. ame. Ave Maria, cheia di graça, il Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nel loro della nostra morte. ame. Ave Maria, cheia di graça, o Signore è convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nel loro della nostra morte. ame. Ave Maria, cheia di graça, il Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nel loro della nostra morte. ame. Ave Maria, cheia di graça, il Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nel loro della nostra morte. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. amici. amici. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe, e all'Io. Nel quinto mistero della gioia meditiamo il ritrovamento di Gesù tra i Dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi vi rimettiamo ai nostri debitori, che non abbandonassi alla tentazione, ma liberaci dal male. in Malayalam. In Malayalam. Santa Maria, amici. prega per noi, peccatori. Adesso nel loro la nostra morte. Amen. Adesso nel loro la nostra morte. Amen. Santa Maria, amici. prega per noi, peccatori. Adesso nel loro la nostra morte. Amen. 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 Adesso nel loro la morte. Adesso nel loro la nostra morte. Amen. 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 Santa Maria, amici. Santa Maria, prega per noi, peccatori. Amen. adesso nel loro la nostra morte. Adesso nel loro la nostra morte. Amen. medesso la nostra forte. Amen. Adesso nel loro la nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Maria, Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi, lodato sempre e sia il Santissimo nome di Gesù Giuseppe e Maria. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita curceno e spes nostra salve. Salve Regina, Mater Misericordiae, Salve Regina, Mater Misericordiae, . . Grazie a tutti. 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 Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo residenti delle promesse di Cristo. Grazie a tutti. 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 Ave a tutti. Grazie 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 a tutti.